Musica Martedì 27 ottobre 2015, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa puntuali come tutte le mattine alle 7.30 Cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito oggi è Sant'Evaristo, Papa e Martire, il sole è sorto alle 7.28, tramonterà le 18.18 il tempo, il tempo di oggi, vediamo intanto la fotografia della nostra webcam dall'osservatorio meteorologico di Fano TV, sempre accessibile dal nostro sito internet temperatura di 10 gradi, vediamo le previsioni per domani mattina e per oggi anche oggi avremo cielo inizialmente nuvoloso per nuvole basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali poi ci saranno delle schiarite, ma attenzione perché domani il tempo cambia eccolo qua, peggiora, mercoledì 28 avremo deboli precipitazioni diffuse anche carattere di rovescio di temporale con fenomeni di moderata intensità le temperature sono in aumento, i venti di Brezzatese, il mare sarà mosso attenzione alle foschie locali giovedì 29 ancora cattivo tempo, forse ancora peggiora di mercoledì deboli diffuse, probabilmente carattere di rovescio o di temporale maggiormente insistenti nelle zone dell'entroterra le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi in lieve diminuzione i valori massimi i venti sono di Brezzatese, il mare sarà mosso il fine settimana invece vedrà molto probabilmente l'inizio di un periodo abbastanza duraturo di tempo stabile e quindi senza precipitazioni l'Italia, l'Italia che sta tutta con Valentino Rossi il resto del Carlino ha intervistato la mamma di Valentino a Tavuglia vi garantisco che dice a Valencia ci andrà Valentino, io lo abbraccio contro gli sciacalli il dottore è già a casa, è già a Tavuglia parla la mamma Stefania che dice qui con me è al riparo la gara di Sepang l'ha vista in televisione ho capito subito, dice appunto la mamma Stefania ho capito subito che sarebbe stata molto più difficile di altre il resto del Carlino questa mattina dedica due pagine noi ne prendiamo soltanto una ve ne facciamo vedere soltanto una andiamo invece sull'altra pagina del resto del Carlino di Pesaro il racconto di un'altra mamma questa volta sicuramente molto più sfortunata Ivana Gennari, Gianluca la morte misteriosa del figlio a Londra la madre racconta il suo inferno il comune dice mi aiuti a riportare le ceneri di mio figlio a casa l'uomo deceduto nella capitale inglese aveva 49 anni per tre decenni ha fatto uso di droghe cercando in vano di uscirne la famiglia è testimone di un dramma e un altro dramma invece si è verificato sotto gli occhi increduli dei passanti ieri un infarto fulminante davanti a un bar che ha portato via in pochissimi secondi Moe di Maria si è accasciato davanti ad un bar in una pasticceria di largo Madonna di Loreto Maurizio di Maria 60 anni pesarese residente in via Forcolo la pagina di Fano invece questa mattina il treno sì o no oggi in regione si vota l'associazione Ferrovie Valle del Metauro attacca i pro ciclabile quelli che sono favorevoli alla ciclabile al posto della ferrovia due mozioni contrapposte Partito Democratico e 5 Stelle la posizione del sindaco di Urbino è ben nota dicono quelli dell'associazione Ferrovie Valle del Metauro perché invece la posizione del sindaco di Fano Massimo Seri non è chiara perché il sindaco resta in silenzio la vicenda invece è accaduta a Marina di Monte Marciano da parte di un gruppo di ciclomatori fanesi del gruppo della Centinarolese che a un certo punto questo gruppo si è dovuto fermare perché tutti gli atleti avevano le gomme a terra un gruppo è stato colpito ruote bucate e sabotaggio una disavventura che è stata raccontata sulle pagine Facebook da uno di questi ciclomatori a Fossombrone invece manovre per scegliere il candidato al sindaco per le prossime elezioni manovre per candidare Baldelli prime mosse per questa campagna elettorale per il sindaco la Lega Nord lancia Natemi non è lui dicono l'anti Chiara Billi Chiara Billi è l'attuale vice sindaco di Fossombrone poi Bocca Seriola piange questa nonnina di 109 anni la signora Falleri con il suo cagnolino Spank che è morta giorni fa all'età di 109 anni nonna Menca così era chiamata affettuosamente da tutti Blizza all'alba dei cacciatori nel mirino ad ogni controllo fioccano i verbali in azione forestale commissariato di Urbino al lavoro congiuntamente su oltre 50 controlli effettuati nel 60% dei casi sono state riscontrate delle infrazioni apriamo adesso invece il Corriere Adriatico la pagina di Fano si occupa in particolare del Carnevale di Fano i carristi si tagliano i compensi di un terzo si tratta sul budget di 100.000 euro per il restyling di 4 carri il pupo e un allestimento minore la disponibilità dell'ente sarebbe di 80.000 euro si rischia che venga escluso uno staff di professionisti più agenti sul territorio ma serve la videosorveglianza Fratelli d'Italia rilancia la storica richiesta destinata a scontrarsi con la spending review la risposta più efficace è quella tecnologica cioè quella delle telecamere è stato messo a punto con le forze dell'ordine un progetto innovativo ma il comune non gli dedica dice Fratelli d'Italia sufficientemente attenzione anche sul Corriere Adriatico si parla della Fano Urbino due progetti contrapposti il PD con Minardi vuole ridurre la pista ciclabile Fabri dei 5 Stelle chiede il ritorno della ferrovia mentre buona notizia ancora sempre sul fronte del porto al via Il Dragaggio per altri 12.000 metri cubi di fanghi la pagina di Pesaro invece pubblica la data del referendum sulla fusione tra Pesaro e Monbaroccio la data di questo referendum è il 13 di dicembre Pesaro Monbaroccio e Urbino Tavoleto il presidente Ceriscioli firma il decreto di indizione ancora sul Corriere andiamo a Senigallia la cronaca commesso di 46 anni trovato morto in casa Montemarciano vigili del fuoco 118 carabinieri nel Residence Il Gelso il decesso per un malore nella notte morto così Andrea Raiola 46 anni originario di Torre del Greco sotto invece bivacchia e droga nei campi da tennis i residenti lamentano continue incursioni nella struttura lasciata nell'abbandono e poi la battaglia della città di Senigallia contro la prostituzione lucciole alle rotatorie proteste per la sicurezza il comandante della polizia municipale Brunacchioni dice una delle prostitute è già stata multata a Borgobicchia dalla polizia sanzionate due squillo che sul ciglio della strada miccavano gli automobilisti in transito lo sport il corriere sul Fano Fano che è in affanno bisogna reagire il presidente Gabellini parla di un momento negativo che speriamo passi in fretta dopo il pari interno con il Chieti l'alma è scivolata addirittura al terzo posto e meno male che c'è stato qui lo chiama scherzosamente San Ginestra nel senso il portierone il portiere Paolo Ginestra che ha salvato davvero la partita domenica al Mancini mentre è un giorno felice per la Vispesero questo gruppo si dice adesso ha dei valori apriamo il messaggero infine per chiudere la rassegna stampa tra le tante notizie c'è anche quella che Sgarbi Vittorio Sgarbi il critico d'arte che è anche assessore a Urbino si candida a sindaco di Milano per la rivoluzione e parla dice manterrebbe comunque anche il suo assessorato al Comune le liste d'attese invece scatta il monitoraggio per iniziare a ridurle istituiti due gruppi di lavoro coordinati da Ciccarelli e Bordoni aree vaste coinvolte in forma diretta primo step dell'operazione poi tutti si schierano con Valentino dal sindaco di Pesaro a quello di Tavuglia delusione e rabbia per come è finito il Gran Premio di Domenica il dito puntato ovviamente contro lo spagnolo Marquez in tanti firmano la petizione per cancellare la penalizzazione Bassani della Toscuola dice io lo conosco ne uscirà a testa alta e adesso c'è addirittura chi chiede ieri un tam tam su Facebook c'è chi chiede di farlo passare avanti cioè qualche pilota pare che abbia deciso e abbia detto a Valentino vieni vieni in Spagna corri noi ti faremo passare avanti e poi te la giochi con lo spagnolo profughi profughi nell'ex scuola comune e quartiere non ne sapevamo nulla l'assessore Mingucci dice abbiamo contattato la prefettura vogliamo capire se il posto scelto possa creare dei problemi nuovo ospedale Ricci spinge ma se rifrena domani i due sindaci si incontreranno a Torino per l'Anci affrotteranno il problema spinoso della scelta del sito fusioni di comuni si vota il 13 di dicembre il comitato del no venerdì scenderà in campo anche quello dei monbaroccesi favorevoli all'accorpamento e la pagina di Fano per chiudere la rassegna stampa Battisti l'istituto scolastico cresce il fronte del no alla perdita dell'autonomia in campo anche la Confcommercio Fano non sia la solita cenerentola il vicepreside Giorgi dice il sindaco Seri ci ha promesso un confronto a breve mentre l'ex dirigente Franchini parla della storia di questo istituto del suo ruolo e della funzione l'istituto merita di restare com'è e tutto il territorio deve sostenerlo poi anche qui il racconto preso da Facebook gettano puntine sulla statale al passaggio dei ciclomatori se la sono vista davvero brutta un gruppo di ciclomatori fanesi vittime domenica scorsa di un agguato a colpi di puntine sulla statale adriatica nei pressi di Marina di Monte Marciano in provincia di Ancona allarme sicurezza rapina in villa Fratelli d'Italia chiede più poliziotti per il commissariato lo fa Alessandro Sandroni portavoce del partito rilancia la proposta di rinforzare il commissariato ed è tutto per la rassegna stampa di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata vi do appuntamento stasera alle 20.30 con occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.